vi chiederete come mai sono in mezzo a le fresche frasche risposta è semplice napoli ciao oggi è il primo aprile e dovevo uscire video su come sopravvivere napoli non è uscito allora farò adesso punto 1 per sopravvivere a napoli tu non devi andare a napoli punto 2 non andare nei quartieri spagnoli punto 3 non dire maradona merda o forza juga sul sito trovati si può sopravvivere lo scippo napoletano e dice di no che peccato vabbè poi parla della cultura ma me non me ne fotte un cazzo perché voglio il meme avrei un sacco di battute black humor o altro da dire sul napoli ma non le dirò perché sarebbe un po scontato comunque dopo questa leggerissima introduzione su come sopravvivere a napoli che ne pensate andresta a napoli ecco a voi un videoclip degli abitanti normali di napoli perfetto coraggio morti entra oh cavolo rick ma che puttana rick a che posto è questo martin questa è napoli un posto magnifico per commettere i reati peggiori del multiverso questa mezzanotte qui a napoli ci sarà la più grande esplosione che l'universo abbia mai visto molte versioni di me sono morte per questo oh cavolo rick ho tanta paura questo posto non mi stia la fiducia a samber una volta le hanno fregato il cellulare ascoltami bene morti comprendo bene la tua paura ma devi sapere una cosa ovviamente io ho preso le arti di ciruzzo e quindi questa sera useremo lo spalaporte per arrivare al centro direzionale e fare casino balleremo con le cinesi giocheremo a pallone con la signora sotto i portici e ti farà esplodere morti cazzo morti tu stasera sarai un kamikaze porco dio fine stasera stasera